Mercato delle punte non semplice per il Pescara. È vero che il Delfino non deve correre dietro a nessuno per stare alle parole del presidente Daniele Sebastiani ma alcuni obiettivi di mercato rischiano di sfumare. È il caso dell'attaccante Lamin-Yalov che è diventato elemento prioritario per la Salernitana. I Granata sono in ampio vantaggio per avere il giocatore Gambiano che il Chievo cederà a titolo definitivo alla Lazio la quale a sua volta lo girerà in prestito alla Salernitana. Per Melchiorri c'è una fila di pretendenti. Detto già di Carpi e Lecce ecco che nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Perugia che potrebbe mettere sul piatto il suo bomber di Carmine che piace tanto al Cagliari. Il presidente Sebastiani ha incontrato i dirigenti cagliaritani ma ha potuto constatare come il prezzo del cartellino sia alto un milione di euro. Per il momento la strada è dunque sbarrata. Lo è decisamente meno per il 21enne esterno Gennaro Tutino. Il Delfino è già d'accordo con la gente del calciatore. Si aspetta solo il placet definitivo del Napoli titolare del cartellino. In queste ore il presidente Sebastiani ha incontrato e incontrerà tante squadre per portare avanti trattative a cavallo dell'assemblea odierna della Lega di Serie B incentrata sui diritti televisivi per il prossimo triennio. Con l'Inter si è parlato del rinnovo del prestito di Andrea Palazzi e dei prestiti di Marco Pompetti e nome nuovo di Axel Mohamed Bakayoko. Si tratta di un esterno d'attacco francese classe 98 che lo scorso anno ha giocato in prestito nella Serie B francese al Saucho. Altro profilo come quello di Tutino adatto al 4-3-3 di Pillon. Nulla da fare per Marco Carraro che l'Inter ha ceduto all'Atalanta per 5 milioni di euro così come nulla da fare per l'esterno Federico Di Marco prossimo al prestito al Parma. Proseguono i contatti anche con le genovesi. La Sampdoria è tra le squadre interessate da tempo a Gaston Brugman per il quale il Pescara ha alzato la posta. 5 milioni di euro che i blucerchiati potrebbero in parte coprire con contropartite tecniche. Con il Genoa sono sempre in ballo le posizioni di Zampano, Fiamozzi, Asensio, Improta ed ora il club di Preziosi ha denotato interesse anche verso il centrocampista senegalese Frank Canutè di ritorno a Pescara dopo il prestito all'Ascoli. Intanto il neopromosso Livorno ha fatto richiesta per il difensore centrale Michele Fornasier che è ancora sotto contratto per due anni col Delfino e bisognerà trovare la formula migliore per la cessione. Se non a titolo definitivo con un prestito con diritto di riscatto. La partenza di Fornasier libererebbe quel posto che potrà essere coperto da Gennaro Scognamiglio prossimo a liberarsi da un Cesena sull'orlo del Baratro. Sempre per la difesa il Pescara segue anche il 24enne terzino sinistro Daniele Liotti, 24 presenze e 5 gol nell'ultimo anno a Siracusa. Intanto dalla prossima settimana prime tappe della nuova stagione del Pescara. Lunedì ci sarà l'illustrazione sul sito ufficiale della campagna abbonamenti 2018-2019. Dal 3 al 6 luglio visite mediche dei giocatori sotto contratto e dei nuovi. Prima settimana di ritiro in città dall'8 al 16 luglio con sedute di allenamento presso il centro sportivo Vestina di Montesilvano. Nel pomeriggio del 16 trasferimento a Palena dove la squadra resterà fino al 29 luglio. Il 5 agosto il debutto ufficiale con il match di Coppa Italia.